Con l'apertura della seconda ludoteca comunale Liquiri in via Gronchi, San Benedetto si conferma punto di riferimento per le attività educative rivolte ai bambini. Dopo l'apertura dell'asilo nido, il centro Alzheimer e il progetto d'ampliamento del terzo piano del centro Primavera, un altro intervento va ad incrementare il settore sociale. E non a caso è stato scelto il quartiere agraria. Un intervento mirato in una zona che ha dato preoccupanti indicatori di disagio sociale sono state le parole dell'assessore Loredana Emili. All'interno dei 200 metri quadri di locali sono tantissimi i giochi da utilizzare gratuitamente, giochi all'avanguardia nel settore educativo che i ragazzi della cooperativa Sistema, gestori del progetto, acquistano direttamente alla fiera di Essen in Germania. La ludoteca Liquiri si aggiunge alla soquadro a Ponte Rotto che già vanta circa 600 iscritti. Per l'estate le due ludoteche proporranno una novità assoluta per la regione, la prima notte bianca dei bambini, una serata all'insegna del gioco e del divertimento che si concluderà intorno a luna di notte. L'iniziativa sarà collegata alle città di Bari e Rimini all'interno di un cartellone chiamato Gioca Adriatico. La ludoteca resterà aperta, lo ricordiamo gratuitamente, dal martedì al venerdì pomeriggio.